Salve ragazzi, bentornati su TechGenius.it, quest'oggi vogliamo parlarvi della nostra terza applicazione ufficiale, dopo quelle per iOS e Windows Phone, siamo qui per presentarvi la nostra app ufficiale per Windows 8. Per quanto riguarda questa applicazione, che vorrete appunto vedere, vi ho vicino un secondo alla telecamera, che vorrei vedere qui fra le tile della mia schermata start di Windows 8, è caratterizzata appunto da questa icona sulla quale campeggia il nostro logo, potete appunto rimpicciolire il tile o ingrandirlo in base alle vostre esigenze come appunto permette il nuovo sistema operativo Microsoft. Aperta l'applicazione ci troveremo davanti quella che è la schermata iniziale dell'applicazione con tutte le varie categorie che all'inizio si caricheranno via via una ad una, ovviamente la prima a caricarsi sarà tutte, quindi potete cominciare da subito a leggere tutte le ultime news pubblicate sul nostro sito, ma mano a mano si caricheranno tutte le altre categorie da formare appunto questo mosaico che vi darà accesso a tutte le singole categorie, quindi potete leggere le nostre news anche in base alla categoria di vostro interesse. Partiamo con tutte, ovviamente vi faccio vedere insomma com'è la visualizzazione degli articoli, abbiamo qui davanti a noi sulla sinistra la lista di tutti gli ultimi articoli pubblicati, basta appunto cliccarci sopra per visualizzarlo sulla destra, molto rapido, molto veloce e molto schematizzato il post con questo contrasto bianco-nero che rende molto facile appunto la lettura dello stesso articolo. Poi tornando indietro volete appunto scegliere una singola categoria, per esempio se siete appassionati di videogame o volete leggere le ultime news riguardante i giochi, quindi ecco qui la categoria giochi, cliccandoci sopra si ha accesso alle sole news e appunto facendo riferimento ai videogame, quindi quelli che noi abbiamo messo nella categoria giochi, quindi Xbox, Playstation 4, ultime novità in base ai titoli in uscita eccetera eccetera. e questo ovviamente vale anche per ogni altra singola categoria, quindi smartphone, tablet eccetera eccetera, una lettura che così diventa decisamente più comoda, soprattutto se siete su un tablet e senza sapere aprire il sito o andare a cercare le varie categorie, avete questi tile, questo enorme mosaico con tutte le categorie, vi basta scegliere quella che è più di vostro interesse e cominciare a leggere. Ovviamente è possibile condividere una notizia, un determinato post tramite la barra che Microsoft mette nativamente a disposizione qui sulla destra e insomma questa è tutta, la nostra applicazione ufficiale per Windows 8 o Windows RT, quindi desktop, tablet, quindi corretta a scaricare e disponibile gratuitamente sul Windows Store. Grazie per averci visualizzato e alla prossima!